Lo sportello del cittadino è a Mottola per celebrare l'inizio, per darci qualche anteprima sulla cinquantesima rassegna internazionale di pittura Città di Mottola. Giovanni Rogante, il padre, l'organizzatore, ci dica in questi due o tre minuti dello sportello del cittadino le novità di questa edizione, giunta alle nozze d'oro, cinquantesima edizione. Le novità sono tantissime, intanto ci sarà un concerto all'esterno della rassegna, poi c'è la banda Città di Mottola poi anche all'interno c'è un concerto di musica natalizie, ma poi ci sono tante iniziative che abbiamo fatto ma non vogliamo rivelare niente per il momento perché ci sono delle sorprese per tutti gli artisti c'è l'annullo filatelico quest'anno perché dopo dieci anni l'abbiamo ripetuto e quindi tutti gli appassionati di... Quante opere e quanti artisti coinvolgono? Le opere sono circa 500, gli artisti sono 134 mi pare, ma fare l'igiene e quindi sono arrivati da tutta l'Italia anche dall'estero, quindi questo è importante. E allora tutti a Mottola dal 24 dicembre al 5 gennaio, cinquantesima rassegna internazionale di pittura Città di Mottola, non mancare!